Il popolo di Dio, la palla di scena e gli amici chiamati per annunciare a noi. Le amiche che sono l'amore, le persone che sono pure. Stiamo trasmettendo la Santa Messa dalla Chiesa di Cristo Re di Mastro. Il popolo di Dio, la palla di scena e gli amici chiamati per annunciare a noi. Le amiche che sono l'amore, le persone che sono pure. Il popolo di Dio è il popolo di Dio. Le amiche che sono le persone che cambiano su fragilità sulla parola. E vogliamo come inizio di questa generazione, perché diciamo grazie a noi, nel nostro conto di piccoli nomi, che noi che abbiamo in fragilità, tanto che non caratterizzare queste settimane, per sentire, di accogliere la parola e il quale si è stato per loro. Allora, insieme, andiamo in silenzio, facciamolo come viaggi e riconosciamo i suoi nostri testi. Amore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.